Ciao a tutti da TheFaceGame, qui Taylor che vi parla e questa è una nuova top 5 fail di FIFA 2012 Oh, sei sempre che saluti, eh Tibu Erinigan con noi, con me, commenta con noi Con noi, con noi, con noi Con me, con noi Hai visto gli altri 10 che sono Vabbè ragazzi, partiamo subito con il numero 5 Oh, questa è una top fail FIFA, ah, assurda ragazzi Guardate, allora, al numero 5 c'è questo qui Sto facendo un casino della Madonna Ti stai rotolando Fushroda, guardatelo Guarda, ma sempre, guarda come si rabalta bene Il giocatore è È un rabalta live, c'è sto qua Questo non so Vuol dire, vuol dire, rubalta Rivolta Rivolta c'è, sì No Al numero 4 c'è invece un'azione perfetta Guardate il parato del partire assurdo Questo è gol Rivolta, rovesciata, rovesciata Oh, ma che spiegato Mamma mia Qui è una parata assurda del partire bravissima Però è proprio sfigato questo Anche perché questa è sfigata Ma allora se questo qui me lo mette così basso Chissà cosa succede nelle prossime Eh, no, non si può dire, scusa Eh, vediamo Se lo mette basso Comunque, la clip La clip, ok Al numero 3 c'è ragazzi Michael Jackson Che dopo aver subito questo fallo Wow, wow, wow Qui non siamo più con un new walk Ma tranquillo dopo Si rilassa Taranara Normale Taranara 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 Naranaranana Bon, basta, basta Ok Comunque dopo Non darti al campo Tranquillo Cioè è tranquillo in bomba Sì, ha fatto la sua Ha fatto la sua breakdance Cioè dopo Guarda che roba Ha gravità zero Questo qui è il nuovo campo Al fulcro nel bonicolo No, questi qui sono i nuovi campi Di tutti quanti campi di calcio Ci saremmo a gravità zero In alcuni punti Gravità zero Oh, certamente Si può giocare Con il Vabbè Al numero 3 c'è Al numero 2 scusate C'è David Silver ragazzi Che deve mettere Come farsi i cazzi suoi Una rimessa laterale Cioè questo lo prende Vai in giro per i cazzi suoi Capito? Questo qui prende la palla Per sentire c'era basket L'Adi non dice un cazzo Capito? Lui ha detto Si è incazzato Gli ha fatto l'entrata Ha detto Voi adesso non giocate più A prendere la palla Io non do la palla a nessuno Cazzo A perdere il tempo Così giustamente Finisce la partita Esatto Infatti siamo arrivati Al novantesimo A una melina Perché alla barcelona Sta bene il pareggio L'1 a 1 Quindi David Silver Non fa altro Che parlare tempo Questo è FIFA o PES? È FIFA Allora prima era Muay Thai FIFA fa 90 Prima era Muay Thai Adesso cos'è? Rugby? No è FIFA Che portano la palla in mano È FIFA cazzi tuoi 2012 No bello Fatti i tuoi Al numero 1 Dai dai Vabbè Passiamo al numero 1 Con questo gol pazzesco Condito dalla ciliegina Sulla torta ragazzi Cioè di solito tipo Ho sognato Ho sognato Ho sognato Tu no Esatto Stava cercando l'approvazione Sì no è bello che Almeno prendesse per il culo L'avversario Prende per il culo Sua compagnia di squadra Che non lo caga minimamente Esatto Oh Clip bonus di casilla Travolto in bomba Guarda che roba È mio È assurdo Trauma cranico Anche quello Due Scivolato Tensione perfetta Qua ci fanno male Che tuo È morto l'altro No è andato Allora È andato in coma Se il video vi è piaciuto Cliccate su vi piace Continuate a iscrivervi Al nostro canale E in descrizione trovate il link Vi porto al nostro sito Ciao a tutti E al prossimo video Mandi If you want If you want If you want It's a casino No è andato in coma No è andato in coma